È significativa perché il Papa Francesco è un portiere di anime, quindi abbiamo sia la Fiorentina che il Napoli regalato la maglia con il numero uno, quindi molto significativa. È stata una bella cerimonia, poi lui è sempre così umanamente semplice, quindi così straordinario. Abbiamo visto le foto con Andrea della Valle, grande familiarità, grande, diciamo, momento di stare insieme prima della gara di domani. Assolutamente sì, poi con i della Valle siamo amici, siamo anche soci in altri affari e poi credo che ci siamo avvicinati al mondo del calcio, tutti e due dalle serie inferiori e quindi con una grossa fatica, una grossa dedizione e una grossa pazienza. L'ultima battuta è la gara di domani, fiducioso? Ma domani sarà una gara estremamente combattuta, una bellissima gara con uno stadio pieno. Io ho visto le vendite dello stadio, abbiamo esaurito sia i posti del Napoli che i posti della Fiorentina, quindi sarà sicuramente una gara piena di pulsioni da parte di un pubblico tifoso estremamente così che sosterrà le due squadre in maniera educata ma anche sportiva e vinca il migliore. Grazie di sì.